ciao benvenuto in un nuovo video su pino daniele il sto vicino a te io la faccio così per me è alta non la posso cantare se sei nuovo iscriviti al canale cliccando sulla campanellina e visi la descrizione iscrivendoti a giambierobruno.it dove puoi scaricare tab lezioni e tante sorprese nel corso del tempo puoi oppure scaricare su tipe.com ti inserisco il link nella descrizione le schede cioè la versione con le parole gli accordi con il giro degli accordi sono comuni la minore fa maggiore settima maggiore mi minore re minore la minore ma con il si qui la strofa fa la minore faccio questa ritmina con la mano destra con fa mi minore re minore e mi maggiore quindi la minore questa è la strofa invece il rito nero ma che parliamo a fa questi accordi di nona fa nona mi nona fa sempre le stesse cose con la voce non posso cantare è solo la chitarra che posso insegnare quando la voce non saania si bemol esce paz mi maggiore mi sembra e poi ritorna di no a Sto vicino a te Sto vicino a te Eccetera Io ti ringrazio per essere stato con me Scarica la scheda nella descrizione Noi ci sentiamo al prossimo video Un saluto da Giambiero Ciao 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 Ciao